Eccoci qui, le 9 e 3 minuti, ben ritrovati qui con noi in questa puntata di Gesso Deci, hanno raggiunto nel frattempo in studio gli ospiti di questa puntata che vi presento e quindi vi presento Andrea Stuppiello di cui parleremo di un bellissimo itinerario che presenteremo tra qualche minuto e poi abbiamo i religiosi camigliani, padre Mariano Pio Servadei, grazie padre per essere con noi, e padre Francesco De Rienzo e poi in collegamento da Palermo lo sentiremo anche padre Salvatore Pontillo col quale parleremo anche un po' di quelli che sono altri sentieri, di una particolare marcia che è stata svolta proprio a Palermo, eccolo qui in collegamento da Palermo, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora io vorrei partire da un tema e chiedo a padre Mariano Pio Servadei di un breve commento, avevamo annunciato in questa puntata che avremmo appunto parlato anche di quello che è il rapporto tra San Camillo e San Pio, un po' ecco come nasce questo rapporto e soprattutto quale è poi anche la vostra attività rispetto al rapporto che c'è stato tra San Pio e San Camillo? Sì, principalmente il rapporto tra questi due santi per noi ecco si ricollega all'evento della conversione del nostro fondatore, ecco San Camillo dell'Ellis nel febbraio del 1575, particolarmente ecco il primo e il 2 febbraio del 1575, recandosi da Manfredonia a San Giovanni Rotondo, ecco quella notte tra il primo e il 2 febbraio all'oggio dorme proprio nella cella numero 5, quella che poi ecco quasi quattro secoli dopo sarebbe stata proprio la cella di padre Pio e proprio lì il guardiano del convento, padre Angelo, guardandolo si accorge che questo è un giovane inquieto perché Camillo è raggiunto a Manfredonia quasi ormai dopo una vita sbandata anche da soldato ridotto a chiedere le lemosine alla chiesa di San Domenico a Manfredonia viene assunto dai frati come manovare per la costruzione del convento dei Cappuccini a Manfredonia e da lì un giorno viene inviato per portare provviste al convento di San Giovanni Rotondo e in questo convento c'è l'incontro che cambierà poi la sua vita con il guardiano padre Angelo ed è bellissimo per noi pensare che ha dormito nella stessa cella appunto come dicevo prima che sarebbe stata quella di padre Pio ed è bello ecco pensare come questi due santi poi sono stati legati entrambi dall'amore ai malati, ai sofferenti Camillo dell'Ellis ha fondato poi un ordine completamente consacrato al servizio dei malati e padre Pio ha avuto poi questa sensibilità che l'ha portato ecco a fondare quella che lui chiama ecco la creatura della provvidenza poi casa sollievo e quindi è bellissimo pensare che in questo stesso luogo queste due figure abbiano avuto questa stessa sensibilità appunto per i sofferenti e anche su quella che è la vostra attività e la vostra presenza qui sul Gargano ci torneremo ecco durante questo spazio che abbiamo voluto aprire ma abbiamo con noi anche ospite Andrea Stuppiello anche in qualche modo per unire anche i religiosi ed i laici che servono poi all'interno della chiesa Andrea è il curatore di un itinerario che si chiama I luoghi del mito e a questo punto ti chiederei in realtà cosa c'entrano questi itinerari con San Camillo Sì grazie Felice e ho pensato insieme in collaborazione con la Proloco di Monte Sant'Angelo di creare questi nuovi percorsi anche per una richiesta e delle esigenze completamente diverse dei turisti quindi il turismo poi è cambiato c'è questo nuovo turismo che si chiama turismo esperenziale e quindi praticamente ho inserito percorsi nuovi io sono un archeologo guida turistica guida regionale della regione Puglia ho pensato di inserire dei percorsi delle esperienze nuove tra cui anche questo cammino nuovo che abbiamo chiamato appunto il cammino di San Camillo c'è praticamente il tratto che fece San Camillo da Manfredonia a San Giovanni Rotondo chiaramente il percorso non dura tutte quelle ore ma si ferma all'altare attuale al centro della valle dell'inferno chiaramente siamo in percorsi naturalistici molto belli e anche zone archeologiche lì nella zona incontrata da Pitello prima di arrivare all'altare c'è una zona eneolitica delle tale rame quindi cerchiamo di valorizzare con questi percorsi tutti gli aspetti quindi dagli aspetti archeologici a quelli naturalistici quindi ci sono tanti percorsi chiaramente su luoghi religiosi prendiamo l'abbazia di Pulsano, il santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo l'abbazia di Monte Sacro nel territorio di Mattinata la necropoli di Monte Saraceno nel territorio di Mattinata sempre quindi dei luoghi veramente unici che immersi nella natura e quindi immersi soprattutto nella grande storia del Gargano abbiamo visto anche alcune immagini della regia su questi itinerari anche su questo puscolo che è stato realizzato in qualche modo si cerca di valorizzare la tradizione che va avanti da anni, da tanti anni motivo per cui vorrei chiedere a padre Francesco De Rienzo in qualche modo qual è poi la vera missione dei camigliani sul Gargano e qual è la presenza che i camigliani hanno sul Gargano ormai da tanti anni? beh la nostra presenza sul Gargano è una presenza molto semplice e discreta ma inserita anche nella pastorale della salute come collaboratori come parrocchie abbiamo queste due parrocchie diciamo molto periferiche quindi sia Macchia che è una frazione di Monte San D'Angelo e Borgo Mezzanone dove c'è tutta una situazione anche dell'accoglienza degli emigranti e quindi si spinge verso anche la carità, quello che è anche il carisma nostro non solo gli ammalati nel senso di servizio ospedaliero ma anche a domicilio e anche quello che è la carità che ci spinge ad andare e guardare Cristo in ogni persona bisognosa ecco poi certo i camigliani diciamo fondamentalmente si sono sempre occupati della pastorale della salute hanno creato un'università anche a Roma vari centri di formazione in tutto il mondo prima quando c'era anche il di Castero che era autonomo del pontificio della salute ecco anche lì erano presenti i camigliani oltre a quello ci occupiamo anche della pastorale diciamo dell'accompagnamento della morte e che cosa vuol dire? tant'è che i camigliani anche alcuni secoli fa si chiamavano i padri della buona morte o i crociferi quindi che accompagnavano al lutto e soprattutto all'atto di consolazione per chi soffre per la perdita e questi sono progetti che si sono portati avanti in tanti diocesi in tutto il mondo ci sono anche questi sportelli che ascoltano, aiutano, pregono insieme ai familiari che hanno avuto una perdita anche improvvisa per essere sostegno e consolazione e preghiera verso chi soffre anche in questa pastorale che è insierita pastorale della salute e pastorale della rierabuazione del lutto e oltre alla pastorale della salute vi occupate sicuramente anche di pastorale giovanile abbiamo in collegamento infatti padre Salvatore Pontillo da Palermo lo abbiamo presentato prima è un anno in cui anche il rosario che è San Giovanni Rotondo è dedicato in modo particolare alla GMG di Lisbona che si terrà nei prossimi giorni dall'1 al 6 agosto e tante sono le attività in realtà che vengono fatte poi in tutta Italia padre Salvatore leggo avete anche fatto una marcia una marcia dei giovani la prima marcia camigliana si è svolta dal 7 al 7 maggio abbiamo anche delle immagini che la regia può mandare in onda in qualche modo è una marcia sostanzialmente anche come quella che qui a San Giovanni Rotondo si svolgerà presto dal 30 giugno al 1 luglio la marcia del perdono del Gargano ma focalizziamoci ecco su questo evento in Sicilia che cosa è significata questa marcia ed esattamente il percorso quale è stato e se c'è un senso nel percorso di questa marcia ecco la marcia questa prima marcia camigliana è stata un'idea del segretariato della formazione del nostro istituto e ha visto la partecipazione non solo di noi i ministri degli infermi ma anche delle suore le figlie di San Camillo le ministri degli infermi e le missionarie degli infermi di Cristo Speranza ecco tutta la famiglia camigliana riunita in questo evento fantastico abbiamo voluto realizzare questa marcia per due motivi un primo motivo è perché siamo a ridosso del giubileo della conversione di San Camillo quasi 450 anni e poi ecco un secondo motivo è perché è stata realizzata è stata pensata per i giovani i giovani perché ecco volevamo dare a loro un valore un valore ai sogni dei giovani di oggi e ecco la marcia in effetti è stata un po' la riproduzione del sogno del giovane Camillo De Lellis di San Camillo pensata in cinque tappe o cinque catechesi ciascuna tappa accompagnata anche da un segno siamo partiti dall'ex convento dei Cappuccini del cimitero di Manfredonia e ecco dove un po' i sogni di Camillo sono stati fondati in un ripiego di sopravvivenza mettendosi lì a costruire ad aiutare i Cappuccini a costruire questo edificio ecco da lì siamo partiti tutti unti con olio di nardo nella Sacra Scrittura nel Vangelo di Giovanni l'olio di nardo sembra essere un segno profetico della morte e sepoltura di Gesù e per noi è stato ecco il segno della morte e sepoltura di tante situazioni e ferite che abbiamo voluto ecco portare in questa marcia proprio perché potremmo convertire anche anche alcune situazioni nostre proprio sui passi di San Camillo e ci sono ecco poi ci siamo inoltrati per 20 chilometri attraverso le mulattiere di Manfredonia andando dalla luce della pianura proprio come segno della nostra vita quando ecco sembra andare tutto liscio e attraversando anche paesaggi bellissimi magnifici come ecco panorami con il mare di Manfredonia e tanti altri posti belli delle mulattiere ecco dalla pianura ci siamo inoltrati fino alle oscurità del bosco della Contrata Napitello che poi porta ecco proprio a questa valle dell'inferno un po' a rappresentare il buio che oscura le nostre mete ecco tutte le nostre angosce paure la dispersione oppure ecco la fretta e l'impazienza di raggiungere le nostre mete ecco per cui giungere alla luce una luce inaspettata proprio nel mezzo del burio della notte era proprio la luce di una grande luna rossa accanto a una croce accanto a un altare l'altare di San Camillo proprio lungo il percorso abbiamo portato una pietra che voleva rappresentare la fatica il peso di alcuni ostacoli della nostra vita ecco che poi abbiamo gettato arrivati su in cima abbiamo gettato nel vuoto della valle dell'inferno e su quell'altare abbiamo posto tutte le nostre candele abbiamo lasciato la pietra abbiamo preso la luce l'abbiamo posta sull'altare proprio come riflesso di tante belle stelle che ci hanno accompagnato ecco in quella notte hanno reso bello incantevole la nostra meta ecco la marcia è stata veramente un successo non solo perché il Signore ci ha donato una bellissima giornata ma anche soprattutto perché in quel luogo non si è convertito solo San Camillo in quel luogo ecco sono giunti molti giovani arrivati da diverse regioni d'Italia dall'Abruzzo dal Lazio dalla Campania Sicilia Calabria e poi dalla Puglia ma ecco molti giovani sono arrivati lì nella valle dell'inferno proprio portando con sé le proprie ferite i propri lutti le preghiere oppure ecco hanno portato anche dei voti che hanno fatto al Signore per grazia ricevuta o tante motivazioni profonde che cosa hanno trovato in quella valle dell'inferno hanno trovato la conferma di una gioia fondata in Cristo proprio attraversando questa valle con i passi i piedi di San Camillo certo una camminata faticosa ma ricompensata grazie grazie padre Salvatore noi ci fermiamo qualche secondo per un break pubblicitario e poi torniamo ancora qui e facciamo qualche altro passaggio sempre con voi e con appunto i nostri ospiti oggi qui negli studi a San Giovanni Rotondo a tra poco eccoci qui le 9 e 18 minuti siamo in diretta nel frattempo se ne approfittava appunto per salutare chi è collegato da Palermo grazie ancora padre Salvatore Pontillo e io torneri su padre Mariano Pio Servadeo padre Salvatore ha fatto questo passaggio alla conversione di San Camillo questi 450 anni quanto è importante oggi questo questo anniversario e qual è il messaggio in realtà che oggi rappresenta il tema appunto della conversione di San Camillo beh il messaggio principale soprattutto per noi ecco che seguiamo le orme del nostro fondatore è questo che nessuna ecco con il Signore con Dio la tua vita non è mai scontata cioè nessuna vita è mai perduta per sempre anche se è una vita ormai dissoluta abbandonata al peccato con il Signore c'è sempre la grazia di poter ecco ripartire ricominciare e questo per noi è importante perché Camillo De Lellis ha avuto questo coraggio di aprirsi alla misericordia e noi che appunto per la nostra specifica vocazione siamo testimoni riviviamo questa misericordia di Cristo verso gli infermi è importante prima di tutto considerare che noi prima siamo oggetto di questa misericordia l'esperienza di Camillo De Lellis è stata questa in quella valle dell'inferno cioè scoprirsi lui oggetto di misericordia amato da Dio e se ti senti amato da Dio sei poi capace di poter donare tutto questo amore agli altri al prossimo e Camillo poi ha incontrato Cristo nei malati ecco lui all'inizio desiderava diventare cappuccino ma poi questa piaga alla gamba che l'ha accompagnato per tutta la vita retaggio della sua vita da soldato ecco era impediva la vita francescana perché il stadio dei cappuccini era troppo ruvido e quindi la piaga si apriva continuamente e quindi mandato poi in ospedale a Roma a curarsi lì si è reso conto che il Signore lo attendeva ecco tra quei letti e infatti lui dice ecco due cose hanno fondato il nostro ordine il crocifisso perché ci sarà anche questa esperienza potremmo dire mistica del crocifisso che ha incoraggiato Camillo nei primi tempi e quando lui ha avuto l'intuizione di fondare la compagnia dei servi degli infermi che poi è diventato ordine di vori solenni e questa piaga e quindi Camillo per noi la conversione si è riscoverto piagato non solo nel corpo ma nello spirito ma ha avuto questo coraggio di aprirsi all'amore di Cristo che risana e quindi tu una volta risanato diventi fonte di guarigione per altri e quindi anche il giubileo che viveremo nel 2025 ecco vuole ricordare questo cioè c'è il giubileo dell'anno santo ma per noi Camigliani ecco tra il 2024 e il 2025 viveremo anche questo giubileo della conversione della conversione di San Camillo fondatore sì padre Francesco De Rienzo qual è la percezione lei ha parlato prima un po' della presenza dei Camigliani sul Gargano qual è la percezione che ha da parte dei laici in che modo partecipano ecco in qualche modo a quelle che sono le attività della vostra comunità e qual è la percezione che appunto da questa partecipazione attiva dei laici alle vostre attività noi è da poco che si è istituita la famiglia Camigliana Laica che è una specie di terzo ordine e quindi ecco pian pianino verrà strutturata nel servizio ma ci sono anche altri laici che ci conoscono come i nostri confratelli all'epoca fondarono l'Avo nell'ospedale di Manfredonia e quindi visto i loro interessi alla formazione anche da anni quando l'Avo esiste i nostri confratelli hanno sempre dato una mano alle associazioni a tutto ciò che si inserisce in una prospettiva di volontariato ospedaliero o di carità e quindi ecco questo ha portato anche a un inserimento certo bisogna lavorare ancora io perché poi vengo da altre attività perché è stato sempre cappellano ospedaliero nel nord Italia quindi mi sono occupato anche come responsabile della cappellania della croce rossa militare per il nord Italia e quindi sulla formazione sul volontariato socio sanitario e soprattutto creando questi progetti di umanizzazione ospedaliera cioè creando dei gruppi etici umanizzanti per la formazione anche del personale socio sanitario e torno con te Andrea per tornare anche su quelli che sono appunto l'itinerario i luoghi del mito arriva la stagione estiva stagione in cui la nostra terra si accoglie e si prepara anche a ricevere tanti turisti provenienti da tutta Italia da tutto il mondo per turismi culturali ma soprattutto anche per quello che è il turismo religioso di questa di questa provincia allora dove si possono trovare tutte le informazioni su questi cammini e eventualmente se ci sono informazioni per entrare in contatto con voi e come chiedere in qualche modo altre informazioni aggiuntive e come dicevo il programma è stato fatto da ideato da me in collaborazione con la Proloco di Monte Sant'Angelo chiaramente la Proloco già si è attivata da qualche giorno è uscito questo programma da qualche giorno e si sta attivando sui social sulle varie pagine e io ho presentato alla BTM che è stata fatta qualche settimana fa a Monte Sant'Angelo che è questa fiera del turismo dove sono venuti tutti questi operatori internazionali quindi questo programma è stato proposto ed è stato ben accettato da tanti tour operator proprio di tutto il mondo e quindi mi sono confrontato con tour operator del Venezuela dell'Argentina inglesi francesi quindi è la domanda che tutti mi facevano ci sono i percorsi esperienziali cioè il turismo il turista di oggi ha bisogno di esperienze vere quindi anche di laboratori io spesso faccio anche i laboratori in masseria cioè l'ego delle degustazioni o dei laboratori a tipo le masserie per valorizzare anche gli altri aspetti importanti del territorio quindi anche il cibo che è importantissimo i nostri formaggi quindi le nostre eccellenze enogastronomi quindi si lega l'archeologia la storia ma anche l'enogastronomia che è interessante la gente vuole veramente provare vuole fare l'esperienza vera quindi vivere una giornata magari un milanese che si trova in Puglia a vivere una giornata da veramente a contatto e con le esperienze vere da fare grazie allora io ringrazio ancora vi vorrei davvero ringraziare di cuore per questa vostra presenza qui soprattutto in presenza per chi collegato quindi grazie ad Andrea Stuppiello curatore degli itinerari luoghi del mito e grazie soprattutto ai religiosi camigliani padre Mariano Pio Servadei padre Francesco De Rienzo e in collegamento da Palermo padre Salvatore Pontillo al quale ovviamente stendiamo a tutti voi anche l'invito a partecipare a quella che sarà la marcia del perdono del Gargano questo itinerario conisce Monte Sant'Angelo con San Giovanni Rotondo e un programma il prossimo 30 giugno grazie ancora per essere stati con noi grazie grazie a tutti